Ciao a tutti ragazzi, oggi per voi il tutorial per realizzare l'effetto di una dissolvenza di un logo in particelle con Adobe After Effects, esattamente come questo. Perfetto, tutto quello che vi serve è il plugin Trapcode Particular. Per iniziare creiamo una nuova composizione che chiamiamo Finale. 25 fotogrammi al secondo e come è durata possiamo mettere 20 secondi. Poi ovviamente sarete voi a decidere. Clicchiamo su OK e adesso importiamo il logo. O se volete potete fare questo effetto anche con un testo. Quindi ho importato il logo o create un testo. Nel mio caso importo il logo nel progetto, che come vedete è in PNG, a sfondo trasparente. E la prossima cosa da fare è creare uno sfondo. Lo chiamo appunto sfondo, tinta unita nera, e a questa tinta unita applichiamo l'effetto genera sfumatura. Io come colore scelgo un celestino molto chiaro. Benissimo. Fine spettro lo porto un po' più in basso, in questo modo. Portiamo lo sfondo sotto al logo e dopodiché facciamo la precomposizione. Quindi selezioniamo il logo o il testo e andiamo sul livello precomposizione. Che chiamiamo? Semplicemente logo. Scegliamo sposta tutti gli attributi nella nuova composizione e dopodiché facciamo ancora una volta la precomposizione. Quindi selezioniamo logo, livello precomposizione, che chiamiamo precomp logo. Sempre sposta tutti gli attributi nella nuova composizione e clicchiamo su ok. Apriamo tutte e due le precomposizioni e se state lavorando con un testo dovete andare nella precomposizione che abbiamo chiamato logo e qui se volete potete aggiungere una sfumatura o un riempimento al vostro testo. Comunque nel mio caso, che ho scelto un logo, non devo fare niente. Torniamo nella composizione finale e creiamo una nuova tinta unita, che chiamiamo particelle grandi. Tinta unita nera e clicchiamo su ok. Applichiamo appunto l'effetto trap code particolar. Torniamo nella composizione precomp logo e qui dobbiamo creare una maschera rettangolare animata. Quindi selezioniamo il logo, selezioniamo lo strumento maschera rettangolare e disegniamo una maschera così. Adesso selezioniamo il logo, clicchiamo M e attiviamo un fotogramma per il tracciato maschera a 0 secondi. Spostiamoci sulla timeline a 5 secondi e spostiamo la maschera dall'altro lato, in modo da avere questa animazione. Fermiamoci qui, clicchiamo F sul logo e portiamo la sfumatura maschera a 50. Benissimo. Torniamo nella composizione finale e adesso possiamo giocare con il particolar. Quindi apriamo le opzioni Emitter e Emitter Type scegliamo Layer. Attiviamo l'icona 3D a precomp logo, che se non vedete, vi ricordo, dovete premere F4 sulla tastiera. Apriamo le opzioni Layer Emitter e scegliamo Precomp logo, sull'opzione Layer. Layer Sampling, scegliamo Particle Birth Time. Ok, torniamo a 0 sulla timeline e portiamo Particle Second a 250.000. Poi questi sono valori che, ovviamente, potete decidere voi. Facciamo un'anteprima veloce. e avremo questo risultato. Portiamo Velocity a 200. Apriamo le opzioni Particle e Life Second lo portiamo a 2 secondi. Sphere Feather a 0. E Size Random a 100. Ora, apriamo le opzioni Physics e portiamo Gravity a meno 500. In modo che le particelle vadano verso l'alto. Poi apriamo le opzioni Air e portiamo Air Resistance a 1. Wind X a meno 100. Poi apriamo le opzioni Turbulence Field e portiamo Affect Position a 300. Fading Time 0,1. Complexity lo portiamo a 2. Octave Multiplier a 1. Octave Scale a 1. Evolution Speed lo portiamo a 10. Evolution Offset a 20. Poi ripeto che questi sono valori che potete scegliere voi. Apriamo le opzioni Rendering, Motion Blur e mettiamo On in modo da avere questa sfocatura. Facciamo un'altra anteprima e vediamo il risultato che abbiamo ottenuto. Il caricamento ovviamente sarà piuttosto lento. Comunque l'effetto, come vedete, è molto bello. Ora duplichiamo le particelle grandi selezionandolo e premendo CTRL D e le rinominiamo Particelle Piccole. Selezioniamo le particelle piccole e andiamo a modificare alcuni valori. Qui ovviamente scegliete sempre Pre-Comp Logo sul Layer e Size lo portiamo a 2. Spostiamoci un po' in avanti e come vedete, se attivate l'icona solo le particelle piccole noterete che la dimensione è piuttosto ridotta. Aumentiamo Random Seed in modo che il movimento delle particelle sia diverso da quello delle particelle grandi. Qui possiamo disattivare questa icona in modo da vedere tutto di nuovo. Facciamo un'altra anteprima che adesso sono ancora più lente di prima visto che abbiamo aggiunto le particelle piccole e il risultato che abbiamo ottenuto è questo. ok, basta così vediamo l'anteprima perfetto la prossima cosa da fare è importare Pre-Comp Logo anzi no, scusate dobbiamo importare il logo sotto a Pre-Comp Logo spostiamoci a 0 sullo timeline e a questo logo applichiamo la transizione a comparsa lineare ok, attiviamo un fotogramma a completamento transizione a 0 secondi spostiamoci a 5 e portiamo il completamento transizione a 100 spostiamoci qui attivo questa icona al logo il modo da vedere è solo questo e portiamo sfuma a 50 ok, disattivo questa icona e quindi l'effetto finale sarà questo benissimo e con questo abbiamo finito grazie per l'attenzione e al prossimo tutorial grazie per l'attenzione